Iesina e Chieti salutano la Serie A con un pareggio per 1-1. Le padrone di casa vanno in vantaggio, poi vengono recuperate all'ultimo minuto. Bene la Iesina nella prima frazione di gara, con le biancorosse che vanno vicino al vantaggio. La difesa avruzzese chiude e si salva. Dall'altra parte è bello il tiro a giro di Marinelli, palla che non va lontano dall'incrocio dei pali. Il primo tempo è tutto qui. Nella ripresa buon avvio del Chieti, poi Monterubiano sfiera il vantaggio con un diagonale che non passa tanto lontano dal palo. Ancora il Chieti con una conclusione da fuori bloccata in tuffo da Emma Guidi. Il Chieti cresce e si rende pericoloso con qualche traversone insidioso. C'è anche la Iesina, conclusione da fuori, che l'estremo ospite blocca. Che occasione per la Iesina sul lancio di Porcarelli che mette la compagna davanti al portiere. Guarraccino sceglie bene il tempo e salva la sua porta. A 74esimo Vagnini lancia con un assist filtrante Valeria Monterubiano che si invola e con un diagonale di destro sul secondo palo gonfia la rete. Poi corsa verso la panchina per andare a festeggiare. La Iesina spinge alla ricerca del raddoppio. Il Chieti non ci sta e prova a cercare il pari. Dall'altra parte la Iesina spinge ancora Monterubiano da fuori, conclusione centrale bloccata. Quando il risultato sembra acquisito per la Iesina arriva al pareggio del Chieti al 93esimo. Sul cross e dal fondo la girata di testa di Giulia Di Camillo vale il definitivo 1-1. Poi arriva il fischio finale che chiude la partita. Per quanto riguarda le occasioni diciamo che la Iesina le sue buone 2-3 occasioni le ha create. Noi abbiamo fatto un po' più gioco e forse abbiamo sotto porta siamo stati un po' meno cinici. Comunque alla fine penso che il risultato sia abbastanza giusto. Potevamo segnare un altro gol quindi non ci possiamo rimproverare nulla. Mi dispiace per le ragazze perché solo meritavano questa vittoria per poter chiudere, per poter dare l'arrivederci. Io direi che questo è un'arrivederci al campionato di Serie A con una vittoria perché solo meritano per l'impegno e per la qualità che mostrano in allenamento e in partita. Abbiamo chiamato Iencinella è l'allenatore che il prossimo anno allenerà sia la B che il campionato primavera per dar modo di vedere le ragazze. Stiamo programmando per se le ragazze queste che abbiamo oggi rimarranno tutte sicuramente faremo un campionato di vertice per puntare e riportare la Serie A a Iesi. Stiamo programmando per le ragazze.